Trump ritorna sempre sul tema religioso che è la sua vita, tutta la vita di tutti, che ogni momento che abbiamo su questa terra lo dobbiamo a Dio e soprattutto lui che imputa a Dio la sua salvezza per essersi salvato quel tragico sabato quando una pallottola gli stava per distruggere il cervello, lo stava colpendo mortalmente, ma Trump dice, e tanti l'hanno detto qui, che è stata volontà di Dio.